Per la quinta volta e a distanza di due anni l'Associazione Nazionale Ciocco Amore tornerà all'Aquila per la Festa del Cioccolato che si svolgerà da giovedì 19 a domenica 22 aprile in Piazza Duomo. Il cioccolato artigianale italiano è considerato come tante altre specialità dello stivale il migliore della comunità europea. Nella Festa del Cioccolato i visitatori potranno giudicare di persona la squisitezza di questo alimento allo stato genuino, proposto con originali e sveate ricette, soprattutto dalle diverse forme, passando dagli antichi attrezzi del mestiere alle borse e scarpe di marca per le donne più fashion fino ai pupazzi Disney e alla riproduzione dei beniamini dei bambini più recenti. La Festa del Cioccolato sarà un momento ludico e gastronomico che vuole però proporre la cultura del consumo consapevole e responsabile dei prodotti buoni, genuini e sani. Il cioccolato artigianale è sicuramente uno di questi e grazie al tour nazionale è possibile portare in piazza un prodotto che difficilmente si trova in commercio perché non segue i canali della grande distribuzione. Come ogni edizione ci saranno anche all'Aquila laboratori didattici sulla lavorazione del cacao tenuti da abili maestri cioccolatieri dedicati alle scolaresche cittadine nel pomeriggio anche in chiave professionale per dare spazio agli adulti. Attività di animazione e intrattenimento per i bambini, ciocco play, magia, trucca bimbi e spettacoli una vera festa che se rispetti non può tralasciare le attività per i più piccoli che sono il fulco dell'iniziativa. Cultura, gastronomia e spettacolo, una kermess unica nel suo genere che animerà di nuovo tutta la città dell'Aquila e la provincia. Grazie. 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 Grazie.